5 febbraio 2006. A Trebisonda, in Turchia, viene ucciso al termine di una messa il sacerdote italiano Andrea Santoro. L'assassino è uno studente sedicenne che dichiara di aver agito in nome di Allah per vendicare le caricature di Mahometto. Il 30 gennaio sono stati infatti pubblicati per la prima volta sui giornali danesi e norvegesi disegni satirici su Mahometto. Don Santoro era noto per il suo impegno nel promuovere il dialogo fra cristianesimo e Islam.